ciao amici classici video vi ho detto che ve li porto tutti sul canale platini faccio i veloci platini ridicoli the bad b the bad qualcosa non si capisce andiamo ho sbagliato non si capisce ok vai sbagliato ok no è quella parte nera andiamo vai primo trofeo e adesso con questo gioco pazzesco secondo trofeo questo gioco incredibile che sinceramente faccio fatica trofeo faccio veramente fatica a fare perché è complicatissimo peggio di bloodborne trofeo trofei incredibili incredibili ragazzi trofei che davvero sono difficilissimi da prendere da capire come fare non si riesce proprio a capire per quale motivo devono fare giochi così complicati così davvero complicati per essere platinati per per essere finiti anche stiamo quasi arrivando alla fine del gioco stiamo arrivando alla fine del gioco e chiaramente si fa un bel option delete altro trofeo most beds have only one pup 4000 the world largest bat in the flixing fox incredibile inglese meraviglioso di marco trans there are mille e quattro specie of bat worldwide mamma mia ragazzi e arriviamo sempre sempre al diecimila punti le dita mi stanno scoppiando no in realtà si tiene premuto da reguna e basta però ho visto dei video dove c'era gente che schiacciava la x diecimila volte quindi potreste fare anche così pian pianino pian pianino un po alla volta diecimila volte e vi beccate questo trofeo the longest living bat in 41 years old mamma mia l'english di marco trans games channel è impressionante like cats bad scream tame cell qualcosa che non ho fatto tempo a leggere humans are only one with belly bottom come bikini bottom 8000 ragazzi stiamo arrivando al platino bat the driving car you use and make a ground puff red bulls vai otto e cinque bats are really bling amici miei dove che arriviamo dove che arriviamo 9000 not all bots hung upside down sentite il mio spelling down bats are more closely related to humans that there are tonight ooooh ancora prima del deca the bad d the bad d platino incredibile 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 poi non si capisce mai quale oh saving the data perché è importantissimo 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 è importantissimo va bene ragazzi the bad d spero che si dica bad quella è una d secondo me bad b boh non lo so comunque il gioco del più piestrello è il platino più veloce del west al prossimo gioco di qualcosa sul platini veloci da marco drums game channel è tutto seguito il mio canale youtube iscrivetevi al canale youtube seguite il mio canale twitch iscrivetevi e fate un bel abbonamento al canale twitch di marco drums games poi ci sono i social facebook twitter twittericks instagram Instagram tic toc pinterest discord vabbè gli altri che ce l'ho tutti ma non li uso mai ahahah e mi raccomando mi raccomando youtube qua che mi da la possibilità di mettere questi video fantastici per voi è il mitico il mitico twitch per le live grazie ragazzi alla prossima grazie per seguire il mio canale se non l'avete ancora fatto seguite immediatamente i miei canali Ciao, 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 ciao